Perdonatemi tanto se sono in un momento di relax, ma volevo dire questo. La nostra associazione di idee serali le abbiamo due volte alla settimana di sabato sera e di lunedì sera. Stasera come ogni lunedì sera c'è associazione di idee perché sempre con la presenza del mio amico architetto vediamo in televisione con grande piacere Daniele. Con questo è tutto cari amici e amiche a domani e buona serata a tutti quanti voi. Felice notte per tutti quanti voi come dice sempre Fabio Di Polito nella trasmissione a Lupo e Lupo.